Un nuovo spazio, un nuovo progetto, una nuova e originale proposta. Un unico cartellone per alcuni degli spazi culturali della città inseriti in tre quartieri storici, il Borgo, la Calza e Ballarò con tre teatri legati tra loro. Il Ditirammu che proporrà canti e balli popolari, il Carlo Magno che farà rivivere la magia dello spettacolo dei pupi e il Teatro delle Balate che si propone come frontiera del teatro sperimentale. Un progetto che nasce dalla volontà di scommettere anche sotto il profilo imprenditoriale in un momento dove le scommesse spesso appaiono orizzonti lontanissimi. Le rappresentazioni saranno attive per tutto il periodo estivo, i biglietti potranno essere attestati anche presso le strutture alberghiere. Si potrà riservare un biglietto unico dal costo di 48 euro che consentirà al turista di poter eseguire le tre rappresentazioni oppure un ticket individuale a partire da 12 euro a persona. Ciascuno spettacolo sarà preceduto da momenti di degustazione. Un'iniziativa questa nello specifico molto interessante. Intanto si parte da un cartellone unico, è già un'innovazione che tre spazi culturali della città hanno voluto dotarsi ma soprattutto lo vogliono mettere alla fruizione realmente dei turisti che sono anche ospitati dalla nostra città. Gli alberghi chiaramente faranno la promozione di quelli che sono gli eventi come sempre lo fanno del patrimonio artistico-culturale ma anche in questo caso del patrimonio teatrale che questo cartellone riesce a esprimere.